Partenopè... Ah no, insieme lo dobbiamo dire! Che devo dire? Hai prima questo e poi Partenopè e Parte 2. Partenopè e Parte 2. La parte di Napoli che vorresti visitare? Posillipo, zone comunque di mare, sulla costiera dai. La parte più bella di una partita di calcio? Penso che durante la partita ci sono tanti momenti belli, però il fischio, diciamo, di fine, durante una vittoria. La parte più bella della giornata? Quando si mangia. La parte più brutta di una partita di calcio? Quando si perde, quando stai per perdere, in qualsiasi partita. Però noi siamo forti, quindi non perderemo mai. La parte più bella di uno stadio di calcio? Secondo me il pubblico fa tanto nelle partite, quindi la tribuna, secondo me. La parte più bella del ritiro? Il fatto di stare tutti insieme, diciamo, di formare il gruppo, di stare con le proprie compagne di squadra e anche l'allenamento che è quello, diciamo, che forma una giocatrice. Finito! Finito! Finito!